Non vorrei mai che poi ci dicessero che facciamo pubblicità occulta e non vorrei mai che qualcuno pensasse che la Bet Italy magari ci dà nel grano per fare... Non ho capito che ci dà nel grano. No, per dire la Bet Italy. Com'è che si chiama? Bet Italy che ci dà nel grano magari non è vero, non è assolutamente vero. Scusa, se chiedo di nuovo, non ho capito come si chiama questa azienda. Bet Italy Poker e Scommesse. No, dai, a parte le battute, non facciamo gli scemi che poi ci mettono in gabbia davvero. Giriamoci, giriamoci, vi faccio vedere il resto della pista e intanto vi racconto però un pazzo che va in bicicletta, andrebbe più forte col kart, non si sa. Sta di fatto comunque che le prove di qualificazione sono state condizionate, sono state condizionate dal maltempo. Pista bagnata che poi pian pianino è andata via via asciugandosi, quindi una situazione abbastanza complessa. Vedete che si stanno già predisponendo in pregriglia i piloti della Mini per le prime manche della giornata. Parte già la prima manche del giorno, sempre della Mini. Come dicevamo, una Mini soprattutto, la Mini è stata condizionata dal maltempo con Tommaso Tridici con il top kart LKE. Ha fatto una poll spaventosa, approfittando probabilmente anche della pista che andava via via migliorando. 1-3-0-85, ha dato 2 secondi e 3 a chi lo segue però che era in un altro gruppo, mentre al suo diretto inseguitore un secondo e mezzo. Praticamente che è Nikita Aleksandrov, il pilota della Energy Course. In seconda posizione Guven, Reker, poi Florescu, Zirkov, Tajer, Machado, Stoll, Marinescu. Per le prime 10 posizioni rimangono fuori dalla top 10 dei nomi abbastanza importanti come i due Lorandi, ma se per questo anche Marco Dionisios, Axiu che comunque sono persone, piloti, pilotini, sempre in vista nelle gare della Mini. Poi saltiamo di una gradina, andiamo in KF3. Antonio Foco quasi a sorpresa, cambia colori e cambia anche posizione. Va in prima piazza dopo le qualifiche. Seconda posizione per Robin Hanson, poi Calano Keef e poi Max Verstappen, seguito da Olsen, Ilbrand, Ivanovic e via via tutti gli altri. Un Verstappen che si pensava potesse avere vita molto più semplice e facile durante questa stagione. Invece dopo una Winter Cup che era poco giudicabile proprio a causa delle condizioni di maltempo, anche in questo primo round della Master Series sta incontrando qualche problemino. KZ1 e KZ2 incredibili perché i 30 piloti che si sono contesi le prove di qualificazione di quest'oggi sono davvero attaccatissimi. In mezzo secondo si ritrovano ad essere in una quindicina. Assente diciamo in vista per quanto riguarda le prime posizioni, Bezki-Visser, primo però Paolino De Conto, Marco Ardigò invece che si è fermato durante le qualifiche a causa di un guasto, evidentemente ha fatto comunque il secondo tempo, è riuscito a farlo nonostante abbia percorso meno i giri degli altri. Poi Lundberg, Dresden e conversa a concludere il terzetto, il quartetto Vortex che poi continua ancora con Wernersson e poi alla fine troviamo Zanchette-Bressan in settimo-ottavo posizione CKR che va molto bene e ha disseminato piloti un po' per tutta la classifica. Poi a seguire due toni kart ancora con Kett e Hayek, i drogati chiaramente non mancano mai in pista, vedete che c'è diversa gente che fa uso di stupefacenti. Questo come tolgo la telecamera dal foglio salta fuori i matti, salta fuori. Sì, esattamente, ma è normale perché qui è un problema grave quello degli stupefacenti nel paddock e loro sono un esempio di questa piaga sociale.